Era appena arrivata dalla Germania dove viveva Martina Breschi, la giovane mamma travolta ed uccisa sabato pomeriggio dall'auto della suocera in retromarcia nel centro di Figline, comune del Valdarno Fiorentino. A bordo dell'auto c'era anche la figlia di appena due anni. La 31enne assieme al marito viveva all'estero, era però molto legata al Valdarno Aretino. La seconda casa dei genitori dell'uomo nel comune di Castelfranco Pian di Scò avrebbe dovuto ospitare la festa per il battesimo della piccola che si sarebbe dovuta tenere proprio ieri. La tragedia è avvenuta in un parcheggio del centro storico in piazza Serri Stori. La giovane era scesa per aprire il porta bagaghi quando l'auto, guidata dalla suocera di 66 anni, l'ha investita mortalmente partendo in retromarcia per cause in corso di accertamento. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari arrivati sul posto dove sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno informato il pubblico ministero della procura di Firenze. In base ad una prima ricostruzione sembra che la vettura fosse dotata del cambio automatico e si sarebbe mossa in lieve discesa. La salma della giovane è stata riconsegnata ai familiari per i funerali che si sono svolti nella chiesa di Sant'Agostino a Prato, città originaria della mamma 31enne. Nelle scorse ore anche il comune di Castelfranco Piendisco ha espresso il cordoglio per quanto accaduto. Interpellati profondamente da questa prematura scomparsa, si legge in un post social, vogliamo unire alle condoglianze i sentimenti di solidarietà condivisi da tutti i cittadini del nostro comune.